Vallo di Diano, Salerno. Ancora furti, ladri in azione in pieno giorno a Sassano. A Polla rubate bici elettriche ed anfore. A Sassano i malviventi sono entrati in azione in pieno giorno. I gnoti si sono introdotti in un'abitazione di via San Rocco, mentre i proprietari erano fuori riuscendo a portare via alcuni gioielli. Proprio nelle scorse ore per affrontare il problema dei furti nelle abitazioni che sta creando indignazione nella comunità, il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, aveva convocato cittadini e forze dell'ordine per discutere della problematica e trovare soluzioni condivise. E poi i malviventi sono entrati in azione anche a Polla. Qui sono stati rubati pneumatici da alcune automobili, ma anche due bici elettriche e purtroppo i ladri sono riusciti ad introdursi anche in un'abitazione. Ed ancora sono state asportate delle anfore.